E bella a tutti ragazzi, io sono Ferro, vedete un po' il riflesso della finestra ma vabbè Benvenuti in questo nuovo video di Fornac Reload In Fornac Reload oggi faremo una sfida ma siamo con, oggi siamo con Capitan Blazer Bella Cap, ma è la prima volta che vedi sta mappa te Ci credo, ci credo Allora, oggi la sfida di oggi è soprattutto fare una vittoria reale, soprattutto provarla a fare Ma soprattutto, andiamo a parco facilito Soprattutto la sfida di oggi è fare una partita intera con solo fucili a pompa Dobbiamo solo usare, dobbiamo usare solo i fucili, pompa, pompa, pompa Però non usare né assalto né mitra, nulla di niente Possiamo usare solo i fucili a pompa Tipo io l'ho trovato uno Sì, l'ho trovato uno di già Io ho già una kill, eh Io ovviamente la kill ce l'ho Ovviamente le cure nella sfida non valgono, eh Quindi le cure si possono pigliare Se no, che cazzata è Ok, bene, io Io ora ho solo un pompa Te quanti pompa hai? Uno Allora, dobbiamo usare solo per un'intera partita Solo pompa Ok, come vedete Io ho già un pompazzo Un altro che di registro in modo Come vedete Questo che è il mio pompa Scusate se a volte casca il mio telefono Ma non è una notizia Ok, la EK Come non hai trovato un pompa? Sì che ce l'ha un pompa Me l'hai detto E ora Intanto Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina E ovviamente Per supportarmi al massimo Code Ferro Mi raccomando Con un code ferro Spammate E E niente Che devo dire Continuiamo la sfida Siamo in 29 E come vedete Ho una kill Questo pallino qua Questo qua Vedete Questo Ok raga Ok raga Ok Io direi di andare là Kill lots Cosa fatta Uh Pumpa verde Cazzo Guarda quante cose belle Aveva sto qua Ovviamente Solo pompa Non barare Ficila Piaccia Un giorno facciamo anche la sfida Solo cecchini Ti va bene Ti va bene Solo cecchini Mi guarda la gente Non è poi così tanto difficile Dai C'è gente C'è gente Ovviamente Mamma mia Mamma mia Dai dai Facciamo Siamo morti Ovviamente Senti Facciamo Ovviamente Io ogni volta Faccio un video Con le sfide Devo morire Ovviamente Ovviamente Facciamo una cosa Abbiamo L'ultimi L'ultimissima Possibilità Con solo pompa Poi basta Poi un giorno Un giorno faremo anche Faremo anche Solo cecchini Solo piccone Random Challenge Insomma Tante challenge In questa mappa Perché è bello Mi piace Mi piace Mi piace Poi Visto che In l'isola spawn Ci sono tante armi Io direi di fare Anche Prendi solo le armi spawn Poi le ricopri In la battaglia Reale Quindi raga Devo finirvi Che poi vado a mangiare Che lo sto facendo Proprio nell'ora di cena Raga Proprio nell'ora di cena 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 Grazie a tutti raga Appena mi viene A chiamami male Dico Si aspetta Due minuti Corso commercio Corso commercio E non se ne parla più Corso commercio E non se ne parla più Ultima partita Seconda e ultima partita Grazie a tutti Grazie a tutti raga Che sei Nel video Dopo la live Non c'è O c'è stasera O c'è stasera Stanotte Ora vediamo Oppure domani Domani raga Domani sera Subito un pompa Ricordati lion Che dobbiamo prendere Solo Fuscili A pompa Ok Fuscili a pompa Del nonno Un attimo Aspetta un attimo Finisco Fate finta Di non ascoltare Guardate il video Con calma Mi guarda La gente Nemici Qualche Chilo Se la dovremo Pur sempre Fare E' inutile Che andiamo A luttare Se dobbiamo Utilizzare Solo pompa Questo lo lasciamo Stattanto Ma lo utilizziamo Dobbiamo andare A luttare Non abbiamo Tempo Per luttare Guarda La gente Oh ma Finisco un attimo La partita Ok raga Devo finire Il video Può andare A mangiare Perché Sennò Mi è messo Incazza Che brutto Questo video Un po' Urlamenti A mia madre Voi fate finta Non ascoltare Allora Soprattutto Questa mappa A me Mi sta piacendo Un botto Il live Menti che sempre Chi piace Scamappa Ti piace Chi piace A me Mi piace Raga Scamappa È incredibile Scamappa Assalto Io non lo posso Utilizzare Lion Utilizza Ah è vero Anche te Segni la sfida Scusami Tanto Lion Solo Fucile A punta Infatti Guardate Un attimo Finisco Mi sa Che lo rifaccio Dopo Il video La gente Questo non mi succede E andiamo così Questo video Fa un po' Però lo carico Uguale Per farvi Divertire Guardate un po' Pronti Via Spero che questo video Di merda Vi sia Caciuto Un applauso Codeferro E allora Spero che questa Lappa Vi piaccia Ciao raga Ci vediamo In live Bella Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga